Teresa Revisore Perano Revisore Bene, buonasera a tutti. A differenza di Stefano, io vengo dal passato. Io vengo precisamente dal 5 settembre del 1953. E in 50 anni io ho visto tante cose. Ho visto affermarsi la radio, ho visto affermarsi e declinare il tormentone domenicale della radiolina Transistor, che era quella cosa che i mariti si portavano con sé, moglie naturalmente acquistava e lui ascoltava tutto il calcio minuto per minuto. Ho visto l'affermarsi la televisione all'interno delle case di tutti noi. Prima Rai 1, successivamente Rai 2 con un'antennina che veniva appiccicata a quella esistente, poi hanno cominciato ad arrivare anche tutti gli altri canali ed è diventato uno strumento di massa. E poi ho visto affermarsi all'interno di tutte le nostre case gli elettrodomestici, cose che assolutamente non esistevano. E poi a fianco di quella grande cosa che fu l'edilizia popolare, che diede il modo a milioni di persone nel nostro paese di vivere in ambienti dignitosi, ho visto il nascere e poi il rapido declino della grande industria di massa. Quell'industria che nella nostra vulgata comune chiamiamo industria fordista. Quel modo di organizzare la produzione ha condizionato anche tutti i nostri ambienti urbani. Non solo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, ma anche dal punto di vista dei nostri stili di vita, dei nostri orari. E a fianco del modo con cui quella grande fabbrica ha condizionato l'ambiente urbano ha condizionato anche tutta la pubblica amministrazione. I nostri ambienti urbani in gran parte sono rimasti legati a quel modello. Ho visto i primi computer. Quei primi computer avevano una particolarità al di là della potenza di calcolo. Non erano collegati ad internet. Le loro funzioni nascevano e morivano in un'unica attività che tutti noi facevamo. Potrei continuare a lungo sulle tante cose che ho visto nel corso dei primi 50 anni. Poi dieci anni fa è cominciata una rivoluzione silenziosa, della quale noi siamo in gran parte inconsapevoli ed è quella con la quale l'ambiente urbano e tutti noi facciamo i conti quotidianamente. Me lo sono dimenticato in giacca. Dieci anni fa Steve Jobs ha presentato l'iPhone, ovvero un oggetto che consentiva indipendentemente dal luogo in cui tu eri di poterti connettere alla rete. Per la prima volta non importa dove tu eri, potevi ricevere o spedire una mail, potevi o ricevere e attraverso un browser collegarti a una rete e vedere ciò che c'era. Potevi ascoltare musica e via via ricordatevi nel corso di questi dieci anni a quell'affare si sono aggiunte infinite quantità di funzioni. Una mappa che ci consente di girare tranquillamente una città fin ai giorni nostri diventare una sorta di strumento di interazione fra noi e gli oggetti. Potete chiamarlo iPhone, potete chiamarlo Samsung, potete chiamarlo Huawei, non ha importanza. Ci possiamo connettere, possiamo lavorare in mobilità. La seconda rivoluzione collegata a questa che ugualmente ci ha cambiato tutto è quella cosa che noi chiamiamo cloud computing. L'infinita quantità di conoscenze, di documenti, di interazioni che abbiamo non sono più in un luogo fisico, non importa dove siamo, poiché abbiamo, se abbiamo un minimo di connettività, noi possiamo collegarci. Chi vi parla, voi guardate in rete, è definito hashtag nomad worker, perché io non ho un ufficio, io lavoro in mobilità. Datemi un po' di rete, datemi un browser, datemi un mobile e io lavoro. Questo consente di lavorare, di produrre, di consumare in un modo assolutamente inedito. Ha smentito mia mamma. Mia mamma a un certo punto mi ha detto trovati un posto di lavoro. Cioè la mia mamma associava il lavoro ad un luogo fisico, perché si poteva lavorare solo in un luogo fisico. E poi successivamente era la famosa scrivania, quella con le tendine, le piantine, le foto dei figli, quel luogo che in una qualche maniera era l'estensione del nostro ambiente domestico. Ci trascinavamo l'ambiente domestico in un altro luogo. Ma oggi francamente, per una parte importante delle nostre professioni, dove siamo? A scarsa importanza. In una mia precedente vita il dirigente del settore urbanistica gli dicevo, ma anima mia, le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, che tu le scriva dalle otto alle due presso la casa comunale, o che tu le scriva di notte a casa tua, a me interessa poco. A me serve avere gli strumenti necessari, il frutto della tua produzione. Noi abbiamo la città ancora organizzata in modo fordista, ma potremmo vivere in una città decontestualizzata. L'impatto ambientale, che oggi è uno dei grandi problemi che abbiamo nelle nostre città, è dovuto al fatto che spesso, tutti insieme, appassionatamente, svolgiamo una serie di funzioni, tutti insieme alle otto in coda in tangenziale a Milano, per fare lavori che potremmo invece tranquillamente farci in un altro posto. Perché? Perché noi continuiamo ancora a ragionare, ad operare, come se fossimo in un ambiente di contesti. È finita la città dei luoghi fisici. Comincia l'epoca della città decontestualizzata. Siamo in una fase di transizione, perché c'è una funzione disponibile, ma non siamo ancora in grado di svolgerla fino in fondo. Ma cominciate a pensare anche dal punto di vista del consumo. Nei miei primi 50 anni ho visto la fine dei negozi devicinati all'affermarsi di altre forme di comprare, di acquistare, di consumare. Ma oggi questo è un modello che è ancora di più in transizione. Perché ormai, anche in questa sala, anche se negherete fino alla morte, una parte dei nostri acquisti natalizi li abbiamo fatti su Amazon. E non l'abbiamo fatto agli orari canonici. E non l'abbiamo fatto come si usava quando io ero piccino, il sabato andavamo, probabilmente aveva dei grandi vantaggi questa cosa, anche dal punto di vista dell'umanità. Abbiamo comprato quando c'è più comodo, perché se io dovessi aspettare il mio ritorno a casa per comprare i negozi di Natale sarebbe un triste Natale. Li ho comprati su Amazon, se non arrivo a casa li troverò già tutti là. È stato un grande vantaggio. Questo primo punto riguarda il tema della città decontestualizzata. Gli urbanisti a volte mi guardano così quando glielo appongo, perché il modo con cui organizziamo gli ambienti urbani oggi sono quelli fisici. Dobbiamo cominciare a pensare di organizzare la città che un grande intellettuale si chiamava Bob Mitchell, uno dei fondatori del Media Lab dell'MIT, definiva la città dei Beats in un suo straordinario saggio che invito sempre tutti a leggere. Questo è il primo capitolo del racconto che vi sto facendo, perché voi immediatamente mi dite sì, ma l'uomo dove sta? L'uomo è il centro. Nel mio racconto vedete quella cosa che molti di noi masticano, si chiama Smart City, tema che ormai comincio a aver l'iterizia ogni volta che la sento, ho messo queste bolle rosse, per piacere, fermatevi, è stata troppo spesso associata alla tecnologia. Più tecnologia digitale tu hai, più sei smart. È l'errore più grave che uno possa fare nel ragionare di questo. Abbiamo visto queste graduatorie di chi è più smart in Italia, per cui Milano inevitabilmente prima e voi Agrigento ve la giocate nell'essere ultimi. E soprattutto o sei grande, oppure non puoi essere smart. L'idea per cui le città smart sono o le metropoli, oppure quelli che hanno tanta tecnologia. Non importa quante LIM tu hai in una classe, l'importante è come usi le LIM. I sistemi educativi a me interessano, non gli strumenti. Gli altri sono solo strumenti per me. L'uomo, come capite, nella mia testa è il centro. In questo momento nel mondo è nata una competizione feroce non fra stati, fra città, fra aree urbane. Competono le aree urbane, non più gli strati. Su cosa competi? Nell'attirare risorse umane. Vedete che l'uomo torna sempre centro. Uno che si chiama nomad worker pensa sempre a dove si ferma a un certo punto. Non è che continuo, ragazzi, da 5 settembre 1953 ne ho viste di cose. A un certo punto vorrei un attimo di dire, mi fermo un attimo. Dove mi fermo? È legato a tanti fattori, ma sono tutti fattori umani. Un buon sistema educativo, per mio figlio, per la mia famiglia. Un buon sistema sanitario, comincio ad avere la mia età, quindi comincio un po' a pensare al futuro dove vado in questa cosa. Un buon sistema dei trasporti, perché io continuerò a muovermi. Ricordate che ogni giorno, sulla tratta Milano-Roma, servita dall'alta velocità, si spostano decine di migliaia di persone. E lavorano in mobilità tutte come me. E sono la ricchezza più ambita alla quale i governi urbani, in questo momento, stanno pensando. Non necessariamente io posso andare a Milano, forse sono più attirato da una media città di 50 mila abitanti. Ma deve avere queste condizioni. Una delle pesanti condizioni che io vi chiedo è la capacità di includere. Le città che discriminano non mi interessano. Le città che non esaltano la differenza non mi interessano. A me interessano le città che esaltano le differenze e le stanno a mettere insieme. Il numero uno è che sono le aree urbane che includono. Vincono le aree urbane che sono in grado di valorizzare le differenze. Vincono le aree urbane che sono in grado di trattenere gli studenti universitari dopo gli studi. Queste sono le aree urbane che vincono e vinceranno. Non importa la loro dimensione. Voi siete perfettamente in corsa, ad alcune condizioni, naturalmente. Altrimenti il nomad worker si ferma da un'altra parte e la mia famiglia con me si fermerà da altre parti. Ma per far questo terzo capitolo bisogna avere risorse economiche. Io sono un uomo molto realista, ho fatto l'amministratore di una grande città e ragazzi ho gestito il bilancio. Come finanzio il sistema di welfare? Come finanzio il sistema educativo? Perché le risorse servono, non è più semplicemente facciamo le rotonde, certo bisogna farle, mettiamo, no. Tutti voi avrete sentito dire che i dati sono la ricchezza del futuro. Il petrolio del futuro. E ciò è vero. Quell'affare che mi sono dimenticato in giacca, quel mio iPhone, come tutto ciò che attiene alle piattaforme digitali, ha una doppia funzione, ricordatevelo sempre. Ha una funzione d'uso ed è quella che in questo momento ci attira, è wow. Prima, assieme ad alcuni di voi, guardavamo i nostri reciproci aggeggi e guardavamo quanto belle sono le foto. Le foto è l'effetto wow. La casa domotica è l'effetto wow. Ed è la funzione d'uso. Ma sotto c'è una funzione più ricca, è la produzione di dati. Perché ognuno di quegli aggeggi produce anche dati. Nel momento in cui io mi collego a Facebook, ho una funzione d'uso di quella piattaforma, ma lascio a Mark tanti bei dati. Nel momento in cui utilizzo Twitter, twitto, ma lascio anche tanti dati. Nel momento in cui io Instagrammo, posto foto e lascio un'infinita quantità di dati. E nel momento in cui il mondo degli oggetti comincerà sempre di più ad estendersi, ci sarà una funzione d'uso di quell'oggetto, ma lascerò anche una quantità incredibile di dati. E più oggetti saranno in rete, non so se saranno 20 miliardi, 30 miliardi, sembra 60 entro il 2020, più ci saranno una serie di funzioni civili legate all'uso della sensoristica, acqua, traffico, luce, gas, risorse energetiche, semaforica, fino alla domotica. Che nel momento in cui o interagiranno fra di loro machine to machine o con noi, genereranno infinite quantità di dati. L'ambiente urbano sarà raccontato dai sensori. L'uomo è il palcoscenico o è l'oggetto il palcoscenico? Perché su questo dobbiamo metterci d'accordo. Per me l'uomo è l'attore, l'oggetto sta in fondo. Ma l'importante è chi gestisce queste piattaforme. È chiaro che io le piattaforme di Mark Zuckerberg non le potrò mai gestire. Ma quelle che forniscono acqua. Tutto il mondo della sensoristica diffusa che gestisce la sostenibilità ambientale. Sono tutti dati di interesse pubblico. Perché questo mercato io lo devo regalare a Google, a Amazon e a Facebook. Io ritengo che il futuro del finanziamento nelle aree urbane sia la capacità di riappropriarci del valore dei dati che produciamo noi. Quella miniera io non la lascio saccheggiare ad altri. Il dato di interesse pubblico lo utilizzo io. Perché da quel dato io posso ottenere un duplice valore. C'è un valore di predittività. Ho una quantità di dati incredibili sul futuro della mia città che mi consente di gestire meglio le risorse che io ho. Se io sono in grado di avere i dati che mi mettono in connessione le cartelle cliniche delle persone, i livelli di CO2 e di NOx, io sono in grado di fare predittività sulla salute umana. E questa è una funzione pubblica. Possono usarla anche i privati, ma è una funzione pubblica. E questo mi consente di essere più rispettoso della vita umana e contemporaneamente di generare valore. I sensori inseriti dentro la tubatura dell'acqua sono quelli in grado di dirmi non solo la qualità dell'acqua, ma anche le eventuali dispersioni e quindi di fare manutenzione predittiva. La manutenzione predittiva comporta un grande valore per me. Non è il 2050 di cui parlava io. Si può fare oggi, intanto per essere chiari. Nel privato queste risorse intellettuali per farlo ci sono tutte, perché il pubblico non può servirse. E poi c'è una seconda. Io ritengo che, siccome io sono un uomo molto realista, dobbiamo cominciare a pensare ad una sorta di scambio privacy valore. Io ritengo che anche il pubblico ad alcune condizioni possa e debba vendere dati. E il patto con il cittadino è il finanziamento del welfare. Vedete, il grande dibattito in un paese su queste cose non è solo il nostro, e tutta l'Europa, è il tema noi tassiamo i grandi. Gli stiamo chiedendo le noccioline. 500 milioni nel bilancio Apple sono le noccioline. Il vero valore sono i dati. Quindi certo vanno tassati come siamo tassati tutti noi, ma la vera partita dei prossimi anni non è la tassazione. La vera partita è la capacità di utilizzare dati per generare valore. Vedete, parlavo ieri sera con qualcuno a cena, è vero che il dato è petrolio, ovviamente abbondantemente raffinato, questo è chiaro. Ma come per il petrolio c'è una borsa, come per lo stagno, per lo zinco, per l'oro, per il platino c'è una borsa, noi dobbiamo cominciare a pensare alla borsa dei dati. Cioè la capacità di mettere in competizione fra di loro le capacità di raffinare. La capacità e l'abilitazione a raffinare dati certamente dei grandi, piattaforme come Watson, IBM e così via già sono delle cose, ma noi abbiamo bisogno di avere una capacità pubblica di raffinare. Il futuro delle città si gioca su questo, produrre e gestire dati, trovare le risorse per finanziare l'inclusione ed avere la grande capacità di pensare alla città non più come la città dei luoghi, quella tutti in coda appassionatamente, ma la città dove siamo in grado di modulare anche individualmente la nostra vita. È una città più ricca quella che ho in mente io, è una città più piena di risorse e di opportunità. È una città dove tutti noi dobbiamo avere la forte capacità di interagire con gli altri. Io non sono, voi avete capito, a me piacciono le tecnologie, ci lavoro, eccetera, ma a me interessano poi i rapporti umani. Io studio le relazioni fra le persone e le tecnologie. E nel prossimo futuro l'interazione è fra persone e persone, oggetti e oggetti, uomini e oggetti. Qual è la semantica del linguaggio? Perché finché parliamo fra di noi il linguaggio è chiaro. Ma la semantica che ci fa parlare con un oggetto qual è? Quel linguaggio me lo dà Google o lo pensiamo noi e lo traduciamo in linguaggio umano? Questa è la grande sfida dei prossimi anni. Quindi io che vengo dal passato vi dico occhio a ciò che può avvenire nel futuro. Grazie.